Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento alla scoperta della leggendaria utilitaria francese la Citroen 2 cavalli Charleston edizione De Agostini, uscita numero 67. Il modello è in scala 1 a 8. Andiamo subito a vedere quello che troviamo in questa nuova uscita. Per quelli invece che fossero interessati, oltre che a dare visione del fascicolo, anche a lettura, possono guardare il video unboxing che ho dedicato proprio più tempo proprio per questa ragione. Prima di tutto saluto tutti i miei iscritti, grazie carissimi e a tutte le persone che mi visualizzano ma non si iscrivono, chiedo, sempre che ne abbiate piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist del canale dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Infine, se ci fosse qualcuno tra di voi interessato a farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente grazie. In questo nuovo invio troviamo la parte superiore del parafango sinistro e una serie di viti HM. Ne useremo una, l'altra ci è data sempre in più. Ricordatevi che la lettera M indica metallo, il materiale sul quale andrà avvitata questa vite. Io uso un lubrificante, non importa la qualità del lubrificante. L'importante è che sia un lubrificante. Ho preso già la vite HM e sono andato a crearmi il filetto qui. Pulite la zona da eventuali tracce di grasso, pulite anche la vite e andiamo a prendere la scocca sulla quale monteremo questo nuovo pezzo. Qui ricordate che si muoveva o risolto. Vi avevo detto che potevate sia scaldare la vite, però rischiate se non siete pratici di rovinare il filetto. Oppure semplicemente sto cercando, ecco qua, il pezzo. Più semplicemente o mettete una rondellina, una piccola rondella dietro questa vite che faccia spessore, sempre ovviamente che voi abbiate riscontrato lo stesso problema che vi ho fatto vedere nel video precedente. Oppure andate a tagliare un pezzo di questa plastica, fate il foro con la vite e fate lo spessore qua sotto che non si vedrà nulla e avete risolto. Ovviamente non andate con un pezzo di plastica molto grande ad occupare questo spazio perché sarà quello dove poi andremo a mettere la cassa, quella che poi riprodurrà il suono dell'accensione del motore e dell'accelerazione e del clacson. Bene, diamo una controllata al pezzo e ci accertiamo che le linee siano tutte perfettamente allineate e lo sono, vedete. Andiamo quindi ad assicurare questo pezzo con la vite HM alla scocca dell'auto. Mi raccomando, createvi il filetto altrimenti rischiate di rovinare le dite o andare storti. Guardate che spettacolo! Potrete anche notare che c'è un leggero dislivello tra la linea bianca qui sulla scocca e quella che abbiamo qui sulla parte superiore del parafango sinistro. Andiamo ad allentare la vite. Vi consiglio di non stringerla fino in fondo ma farlo solo ed esclusivamente quando metteremo anche la parte del parafango nera per vedere come si comporta. Vedete che c'è poco ma c'è. Vediamo un po' una cosa. faccio dei tentativi è tutto in diretta anche se è registrato ma non sto facendo nessuna prova. sto cercando di fare questo perché qualora si verificasse anche a voi lo stesso problema sapete poi come fare. allora prima di avvitarlo combacia bene vedete quando lo avvitiamo se lo tira su quindi allora se lo tira su si non c'è problema però questo lo farò alla fine devo andare a consumare questa parte qui guardate questa parte qui questa che ha lo scivolo la vado a consumare questo cosa permetterà permetterà al pezzo di poter scendere più in basso e allinearsi alla linea qui però questo lo farò dopo perché perché bisogna anche considerare questa linea questa qua sotto quindi ecco quando avrò il parafango nero tutto mi sarà più chiaro non interverrò prima quindi adesso vado a rimettermi la mia vita hm ecco qui lo lascio un po' svitato perché non serve stringerlo per quello che vi ho spiegato prima dobbiamo prima andare a vedere che poi tutte le parti tocchino perfettamente bene se noi andiamo a stringere subito i registri questo è un registro di fatto vedete quando metteremo il pezzo se tocca bisognerà svitarlo quindi lasciamolo così e ce lo assicuriamo dopo ovviamente andremo a avvitarlo quando quando poi non potremmo più intervenire dopo quindi ecco prima di mettere all'interno e le coperture lo lasciamo così ok bene ragazzi io direi che il filmato è finito ma prima di salutarci prendo tutto quello che ho montato fino a questo numero il numero 67 ecco qui guardate che meraviglia tappetini in gomma sia anteriormente che posteriormente cinture di sicurezza i sedili sono la perfetta riproduzione di quella vera prendiamo il resto chiave che consente l'accensione grazie a questa parte finale che è metallica andrà a creare il contatto a questi due fili che sono staccati all'interno e potrà riprodurre il sonoro dell'accensione guardate che bella ragazzi qui poi ci andrà la copertura gialla come per la macchina vera nella quale ha nella quale macchina la vera ha la funzione di insonorizzare il motore prendiamo adesso anche l'ultimo pezzo non so più come farvela vedere è veramente grande ecco qua questi poi andranno a messi qui così guardate che meraviglia non fate caso ai semi assi perché li ho sganciati io questi li metterò alla fine quando monterò il modello perché mi si staccavano e poi li bloccherò bene ragazzi il filmato finisce qui io vi ringrazio del vostro tempo mi raccomando non dimenticatevi sempre che ne abbiate piacere di iscrivervi al canale e di attivare la campanella ciao a tutti ragazzi un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari ciao mi raccomando non mancate perché vado adesso a preparare l'uscita numero 68 poi seguirà la 69 e la numero 70 ciao a tutti